E come andremo a farlo? Beh andremo a farlo in questo modo come catturare l'attenzione dei tuoi clienti e qui abbiamo tutta la parte di marketing di fanno il posizionamento identità con lo scopo di profilarli dati privacy compliance anche aziende e soprattutto aziende perché se io profilo Rudy Arese e lo associo alla rese srl e alla rese srl so quanto vale so quella storia e poi riconsegna a qualcun altro questa banca dati ha un valore pazzesco svilupparli quindi far vedere le azioni e le squadre l'allenamento e la condivisione che mi ha portato a creare quel portafoglio e fidelizzarli fidelizzarli che non mettono in dubbio mai perché comunque io ho creato un polo di attrattività perché sono sostenibile o per corsi di carriera o il welfare è già fatto vedere per chi è venuto a settembre a Bologna sostenibilità non c'è solo l'inquinamento il primo punto dell'agenda 2030 il primo punto è quello in più importante come sapete come si chiama non è l'ambiente sconfiggere la povertà e voi state facendo questa cosa il primo punto cosa fa sicuratore facile per sconvincere la povertà c'è un sottopunto che è l'1.3 che nell'agenda 2030 che dice applicare a livello nazionale sistemi adeguati misure di protezione sociale per tutti includendo i livelli minimi e dentro 2030 raggiungere un sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili contributi senza sorprese la sua diagnosi del reddito effetto mediante l'estato conto providenziale allo scopo di informare in modo semplice ogni lavoratore dei rischi che potrebbero fargli perdere le entrate di conseguenza finire in modo irreversibile in una situazione di povertà e la non autosufficienza dovrebbe proprio rientrare qua le persone anziane non autosufficienti diventano povere e trascinano in povertà anche i familiari con quanto importante questo punto invece di parlare delle cazzate dell'ambiente visto che noi insomma cerchiamo di prendere le borracce cerchiamo di usare le luci a led cerchiamo di spegnere le luci ma non è che abbiamo qua un forno che cerchiamo di digitalizzare quello che si può digitalizzare ma che tipo di impatto abbiamo sull'ambiente noi possiamo avere altri tipi di impatti pensate istruzione di qualità punto 4 entro il 2030 aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie incluse le competenze tecniche professionali per l'occupazione per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale tutta azienda senza sorprese è fatta su questa cosa io per la sostenibilità sto dando della formazione e degli strumenti all'imprenditore per la sua capacità imprenditoriale di prendere decisioni perché la sostenibilità è fondamentale se lui ha una crescita sostenibile è un vanto per tutto quanto il territorio quanto è collegato con quello che abbiamo visto prima sulla società benefit questo è profilazione sviluppo e fidelizzazione grazie a tutti